Buongiorno a tutti ragazzi miei belli, questa mattina è una mattinata abbastanza tumultuosa perché ho letto delle cose che da tifoso interista non tanto piacciono ai miei occhi. Comunque cominciamo subito con quello che è la possibilità di Robin Gosens di tornare in patria. Perché? Perché l'Union Berlino sarebbe disposta a sborsare 20 milioni di euro per riportare in Germania Robin Gosens e quindi partendo Robin Gosens potrebbe arrivare la carta frattesi. Subito 35 milioni per il Sassuolo per portare frattesi alla Corte Nerazzurra. E come ogni estate poi inizia il tumulto ovviamente perché i giornali danno Nicolo Barella per possibile carta, possibile big da cedere quest'anno per 65-70 milioni di euro. Si vocifera da quello che ho potuto leggere che ci sono delle possibilità che Nicolo Barella potrebbe essere uno dei sacrificati perché ormai ogni anno all'Inter si parla di sacrificati e quindi tra Onana e Barella uno dei due potrebbe partire. Ci sono tante voci, c'è stato Zhang a fine stagione che ha detto che comunque quelli che hanno fatto bene all'Inter i perni della squadra dell'Inter non si toccano, non sono incedibili. Poi invece arrivano i giornalisti a fare un po' di confusione in merito a questa cosa. Ovviamente io mi fido e non mi fido. È chiaro che le proposte ci saranno sempre, il Liverpool, il Manchester United e tutte queste squadre qui è chiaro che sono interessate a Nicolo Barella perché sennò non sarebbe il campione che è Nicolo Barella ovviamente. Ma attenzione perché il volere del giocatore va su tutti. Cioè il volere del giocatore è una cosa che non prescinde dalla partenza o meno. E Nicolo Barella a Milano sta da Dio. Nicolo Barella è interista. Nicolo Barella vuole vestire la casacca dell'Inter per altri dieci anni. Quindi io reputo che il signor Zhang, anche quando abbia una grossa gatta da pelare, anche quando dovesse decidere di fare questa... Si può dire stronzata? Cioè si può dire stronzata? Cioè io vorrei dire stronzata. Oggi voglio essere un po' meno formale e dire stronzata anche perché io sono questa. Quindi è inutile che facciamo tutte le... Anna Billò della situazione quando io in realtà sono anche un po' giocosa. Quindi è giusto anche fare così. Detto ciò ragazzi miei, niente, questa notizia, soprattutto questa pagina del giornale dove c'è scritto Barella, il Celsi chiede lo scambio per Lukaku. Da brivido, cioè la brivido... Cioè sapete la pelle d'oca, come si dice in Sicilia, ammarrazzare i carne. Ragazzi miei sapete bene che è quasi impossibile. Cioè è fantascientifico, è fantacalcio, è fantamercato. Solo pensare che una società come l'Inter, in nome di Marotta e in nome di Steven Zangio che ovviamente si fa consigliare da Marotta, da Ausilio, da Baccino, da Antonello, possa mai pensare di prendere un ragazzo di quasi 31 anni e per dare un altro ragazzo di 25, quasi 26 anni che praticamente è il perno del nostro centrocampo. Cioè ci vuole un attimino di equilibrio nella vita e anche i giornalisti prima di scrivere dovrebbero avere un tantino di equilibrio. Sembra che per Bissec sia quasi conclusa la situazione Acerbi è quasi ufficialmente dell'Inter Stessa cosa per Stefan De Vrij, ufficialmente dell'Inter E niente ragazzi, al momento le novità credo che siano più o meno queste non c'è nient'altro da dire Se durante la giornata ci fossero dei cambiamenti, delle novità importanti io vi faccio sapere Intanto ricordatevi sempre la vostra look vi vuole bene e sempre, sempre, sempre Forza Inter to be continued